Non solo si acquista droga, si spacciano droga, acquistano droga, ci sono situazioni allarmanti, ma hanno adibito quasi un palazzo per drogarsi, cioè entrano dentro, si drogano all'interno di appartamenti, hanno trovato naturalmente persone complici, possiamo dire colluse col sistema di spaccio, che gli danno disposizione di appartamento per drogarsi. E addirittura, udite, ci sono i cittadini che non possono rientrare nelle proprie abitazioni perché trovano sulle scale tutte queste persone che si drogano con la siringa inserita nella vena. C'è anche quella che viene chiamata la stanza del buco nei sotterranei delle palazzine popolari faticenti di via Rigopiano a Pescara, una zona, così come altre, del capoluogo adriatico, da Zanni a Rancitelli passando per Fontanelle, fuori controllo, dove lo spaccio e la normale vita dei cittadini che nulla hanno a che fare con la delinquenza, ma che convivono da anni con essa, si fondono per contingenza, pur restando nettamente separati. A tornare in questa zona difficile di Pescara, a pochi metri dall'ospedale Santo Spirito, è stato il vicepresidente del Consiglio regionale e attivista del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che reitera la sua richiesta di più sicurezza ed interventi antiabusivi da parte della regione Abruzzo, denunciando anche le minacce che gli sono arrivate affinché si spengano i riflettori sui quartieri difficili di Pescara. Purtroppo sì, perché vengo lasciato solo, siamo soli come forza politica a combattere contro i delinquenti criminali puri pregiudicati e loro naturalmente poi cercano di colpire. Sono arrivate minacce non troppo velate nei confronti della mia persona, ma non è questo che mi spaventa e che mi fa fermare. Io continuerò con più forza di prima, però la regione Abruzzo, che ha il dovere, il potere di sfrattare questi delinquenti criminali puri pregiudicati, abusivi dalle case popolari, lo deve fare. Io l'ho detto tre mesi fa, sono passati tre mesi. Cosa ha fatto questa amministrazione regionale di centrodestra, la Lega in Abruzzo? Nulla. Poi sto preparando un dossier anche da inviare agli organi governativi, perché se qui non si fa nulla sotto l'aspetto della sicurezza e dell'ordine pubblico bisogna anche interessare gli organi governativi, ma parallelamente la regione è l'unica che può attivare i procedimenti amministrativi, i provvedimenti per gli sfratti, naturalmente di concerto col Comune di Pescara.